Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. La notizia della nascita del secondo figlio per Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è stata un'emozione unica, annunciata da Mediaset tramite il fiocco azzurro pochi giorni fa. Visibilmente emozionati, hanno condiviso la dolce novità con il mondo, rivelando il nome del piccolo, Daniel. La gioiosa notizia è stata condivisa su Instagram attraverso un tenero scatto che mostra il neonato addormentato serenamente sul ventre della madre, circondato da due cuori rossi. Questo momento speciale segue il rivelamento della gravidanza lo scorso settembre, quando la coppia aveva condiviso un emozionante video del gender review sulla spiaggia, svelando che si trattava di un maschietto. Anna Munafo, ex tronista e protagonista di Uomini e Donne nella stagione 2013-2014, ha preferito mantenere un profilo basso durante la gravidanza, condividendo pochi aggiornamenti sui social, in linea con la sua decisione di proteggere questi momenti speciali dalla luce dei riflettori. Dopo la nascita di Michael, questo è il secondo figlio per Anna Munafo. La sua storia televisiva è nota al grande pubblico, avendo scelto Emanuele Trimarchi durante la sua partecipazione al programma. Successivamente, ha vissuto una storia d'amore con Matteo Miloti, programmato per culminare il matrimonio nel 2019, ma che alla fine non si è concretizzato. Anna ha poi trovato l'amore con Giuseppe Saporita, con il quale si è sposata il giorno di Capodanno nel 2021. La coppia ha accolto il loro primo figlio pochi mesi dopo il matrimonio. Con il nascere di Daniel, il piccolo fratello di Michael, la famiglia si espande ancora, portando gioia e felicità a tutti i membri. Facciamo nei commenti gli auguri per questa notizia meravigliosa.